Gli interventi assistiti con gli animali comprendono attività che si avvalgono della collaborazione degli animali domestici con valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ricreativa. Sono rivolti sia a persone con disturbi della sfera fisica e psichica, che ad individui sani che attraversano periodi di fragilità. Per entrare a far parte delle equip multidisciplinari per gli interventi assistiti è necessario acquisire competenze specifiche attraverso un percorso formativo, che comprende un corso propedeutico, un corso base e un corso avanzato. Il corso base è rivolto a coloro che sono interessati a ricoprire il ruolo di coadiutore dell'animale negli interventi assistiti. Per accedere al corso base è richiesto l'attestato di partecipazione al corso propedeutico. Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore che ha la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione con il paziente, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'intervento. Vengono illustrati elementi di etologia e di pratica di gestione specie specifica necessari alla coppia animale coadiutore e allo svolgimento delle attività in diversi ambiti terapeutici ed educativi. Inoltre il corso insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale coinvolto, individuandone i segnali di malessere sia fisici che psichici. Vengono fornite conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli interventi, nonché metodi per la preparazione dell'animale alla socializzazione necessari per poter far parte dell'equip di lavoro, e consente di conoscere le attività svolte in centri specializzati per gli interventi assistiti dagli animali. Il corso prevede una parte teorica e una pratica e ha una durata minima di 56 ore. Al termine del corso, dopo il superamento di un test di verifica delle competenze acquisite, verrà rilasciato l'attestato di frequenza. iForm organizza il corso in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari. Ed il Comune di Ortueri che sta sviluppando un centro per interventi assistiti dagli animali grazie anche al bando Borghi PNRR. Per maggiori informazioni potete contattarci a questa mail, segreteria-iformesrl.it